C'è un posto in Sardegna che non ti aspetti. È Arborea, l'isola felice delle mucche. Qui il sole scalda il mare che arricchisce il vento che arriva a terra e nutre un fieno che le coccola. Così il nostro latte viene sorprendentemente buono per darti tutto ciò che il tuo palato si merita. Perché se lo merita, con Arborea ogni assaggio è un viaggio. Arborea, l'isola felice delle mucche. Arborea